eccomi ragazzi con un altro nuovo video di oggi e dunque sto registrando sempre lo stesso video lo stesso no però un altro perché ve lo voglio registrare un altro video per parlare un po' con voi per parlarvi un po' di come ho passato questa settimana questa settimana ho passato benissimo perché si sono stata molto bene e aspetta un attimo che non mi vedo molto bene così e altro un po' su ok sembra che se non cadebbe ok si è un po' ambilico allora questa settimana l'ho passata benissimo perché sono stata troppo bene e niente a parte vabbè che sono stata un po' di malumore perché non avevo i dolci io sono una colosona quindi i dolci se non ho i dolci sono di malumore quindi vabbè i dettagli l'ho passata tutta questa settimana in casa poi sono fatto della spesa non ho fatto vita sulla spesa perché non avevo voglia però in confronto ho fatto ho fatto la spesa ho pulito casa ho spazzato tutta la casa tutto quanto sorti video che faccio quando faccio quando faccio le pulizie ma stavolta non ho registrato video ho solamente pulito la casa così senza né telecamere né niente e poi ho registrato per instagram qualche reel non so se vuoi mi seguite su instagram seguitemi se non lo fate seguitemi sono youtuber melale 3-8 casomai quando carico il vostro video come ho fatto con l'altro vi metto il link ma direttamente come si chiama vabbè il nickname youtuber melania trattino va sotto e se volete vi metto anche il nickname del mio tiktok che ci sono anche lì non faccio tante cose su tiktok però ci sono ci sono tranquilli che ci sono aspettate che non vedo bene cosa sta ok così penso che mi vediate bene allora dunque cosa devo dire che questa settimana ho fatto tante cose appunto e mi sono andata a fare anche per la casa bella posto vabbè adesso sono un po riposo la riposare senza un po in stand by un po in pausa appunto poi però ricomincio a fare altri video perché come non so se lo sapete ma presumo di sì credo di sì e continuo a fare altri video non so ancora quali farò ma li farò tranquilli con altri video altri video anche sulla cura della persona perché ci stengo a farli ma anche sulla cura della casa ho cambiato idea è vero che non mi piace il video pulizia ma sarei non sarei coerente a quello che ho detto tanti giorni fa ad altre ragazze di ad altre ragazze di youtube però video pulizia credo di contrarre a farli è vero sì non mi piace farli non ha senso farli se non mi piace però anche per trattenere voglio fare portare anche il contenuto che a me non mi fa impazzire ma lo voglio fare lo voglio fare lo stesso anche per tenermi un po impegnata più che altro per me perché mi piace registrare i video anche se non mi fa impazzire con il contenuto perché lo so lo ritengo noioso ma non voglio fare lo stesso e vabbè ai miei pro e ai allora i miei video che faccio hanno un pro e un contro ecco come il video su video di pulizia motivazionale hanno i miei pro e il contro però paziente ragazzi non lo so ammetto è piacere di guadagnare ma non mi interessa più di tanto non ci sputa nel piatto non mangio lo dico sempre però se potessi guadagnare non sarebbe male ma non mi interessa guadagnare le visual ce l'ho non soltanto ma non sono neanche poche diciamo la verità mi accontente di quello che ho di quello che passa il convento come si suol dire ad ogni modo ok e niente quindi se questo video appunto vi interessa non lo dettano inizialmente adesso mettete un bel like di supporto un commento e se appunto vi interessa attivate la campanella tutte le notifiche e basta altrimenti non siete obbligate non ve lo dico tanto per fare l'acqua come si può dire tanto per insomma per fare la parpardella di ogni youtuber che dice attivate questo fate quello fate quell'altro no io lo dico per piacere poi siete libri di fare quello che mi pare tutto sommato e niente comunque sto registrando questo video nello stesso modo a cui ho registrato l'altro sempre oggi domenica appunto e vi dico buona domenica a tutte perché sto registrando allo stesso momento il video che ho registrato poco fa che era in 4k con questo che te in hd in full hd credo che sia aspettate quanto lo sta registrando si sta registrando per fortuna ok bene ragazzi miei ragazzi miei adesso io che dire la giornata poi bella comunque però sembrava che dovesse piovere invece alla fine come soltire in sardegna è migliorata la giornata per non dirlo un dialetto valorese perché scappo il nervosino urtare qualcuno quindi dico meglio in italiano è migliorata la giornata non è migliorata al miglio però al massimo però qualcosina fatto da non è un sole che spacca le pietre però può andare diciamo e niente bene ragazze quanto ho registrato aspetta che controllo solamente no 6 minuti ho registrato 6 minuti di video e vabbè niente quindi 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 non lo so ragazzi io adesso penso che vado e ci vediamo in un altro video ciao ciao